e onore di presentarvi, Paolo, benvenuti! Mario, sei alto? Sì. Questo pezzo si chiama Amore, un pezzo che abbiamo avuto, come dicevo prima, l'onore e il piacere di suonare e incidere sul nostro ultimo, penultimo CD che si chiamava Luci di Nervi, insieme a Paolo che ci ha fatto questo grande regalo e stasera ce ne fa un altro e lo fa a tutti voi. Perché Paolo è una di quelle poche persone per cui vale davvero il binomio bella persona, bella artista, non sempre si può dire che gli artisti sono... Invece Paolo, prima di essere un grandissimo artista, è una bellissima persona, quindi siamo davvero contenti di averci visto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Lasciamo il palco a Baby New e ringraziamo davvero tutti gli amici che sono qui. Ci tenevamo a ringraziare Roccherella e Lacci le Boschi per aver organizzato queste due serate. Voglio ancora una volta confermare che l'unione fa la forza e non le divisioni interne. Noi ci stiamo riuscendo, ci siamo riusciti, quindi sostenete queste realtà. Sostenetele. Grazie. 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 Grazie.